Now, say my name Sì, un fungo allucinogeno che se tu te lo mangi diventi un animale Quindi è abbastanza figa e trasgressivo come cosa E stiamo andando a prendere quello vicino all'aeroporto Che non sappiamo sinceramente a quale animale corrisponda Però speriamo sia figo che non sia tipo, non lo so, un cane Perché è abbastanza inutile Siamo quasi arrivati, sta tipo a sto fregnetto qua Quello là di modificare macchine e cazzi vari Lui ha fatto il giro lungo ovviamente Non è una vada da corsa Casa è morto Sì, lo sto Ci va a piedi Ciao Sti cacci da una prima madre Ah ma ho in modo dove c'è tutta gente dentro Me sa Scusate se dobbiamo fare qualcosa Non fate più Bam, ho capito, agab, mamma mia Modifica l'autobus Modifica l'autobus Modifica l'autobus Modifica l'autobus Modifica l'autobus Porca troia Ma perché si chiamato là quello tutto a destra? Ciao collega Tutti che urlano ad entrare l'autobus Dovrebbe essere Eccolo Sto gengillo qua Abbiamo d'ora del peyote E se lo prendi Ecco qua Per mangiare il peyote Ecco il peyote, vediamo in cosa ci trasformiamo Mamma mia Franklin ha preso il peyote Sì Bam Mamma mia Sono coniglio Oh merda Perché fratti ma cos'è? Oddio Caruccio Io posso vedere con il mio mio Prima non cuore Corri un po' Non mi fa corre Devi correre Corri come devi correre Oppure davvero Ah ecco Solo Non lo voglio di mangiare Non mi fa Non mi fa Perché io oglio l'avventura S- Non salta Non salta Conquadrato si salta Non salta Così io che non salta La spero che non salta Guarda qua Guarda cosa si fai così di gratti Grazie Fa sc S- S- Fati vestiti Che così ma non è quello che si cratta Quindi S- Non mi fa messire Ma e finisce come si esce da qua aspetta ma è tornato pure l'autista si però devi andare dritto si come no eh amico ah gli guardi tutta la punta non c'è la prima persona no e quanto costa un giro ma come scappa è un coniglio aspetta non è un topo un coniglio vabbè guarda la collega tua che forse non c'è problema non c'è problema di mezzo vizio filia vuoi il ciclo oh mio dio un coniglio ma che scappano fate investire fate investire fate investire no io vivo non ho fatto investire rega ma una cosa suona come si fa però finì sono tre ore avete visto proviamo a però niente niente coniglio vittorio ma che la moto sono sicuro che non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è bello sto jose però non c'è non c'è allora noi adesso siamo con le ordine con la smart perchè stiamo andando perchè siamo i romani un pochettino stanno lo stesso perché di vero si senti io voglio sfila come fumo con questo mondo da prendere cose no buongiorno un giocco un giocco eccoci o la nata voglio sfila voglio penso del merda fila boh mario hai capito non mi interromperai il mio sogno da superstar capito pezzo di merda sta al posto tuo e mo sfilo quella è rimasta attaccata qua questa guardatemi tutti datemi soldi eh si è il mio momento questa questa è congelata boh scendi c'è te lo salio no va sfila 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 c'è la polizia ma io sfilo io me ne frego ok ok si è reso quello sono sfila comunque ragazzi finiamo quel video e noi ci becchiamo alla prossima continuate a scriverci sotto quello che possiamo fare intanto io cercherò di nerdare il più possibile il gioco per poter fare qualsiasi cosa ci dite speriamo che vi sia piaciuto questo video se volete continuare a vedere GTA lasciamo 2500 like e ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 c'è nessuno qui da un cazzotto bella